Ciao a tutti signori, sono Maine Coon, piccolina, mi chiamo Morrigan e sono il nuovo arrivo in casa di Coridan ed Electra, guardate bellina Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi il video più strano del mio canale perché sono qui con la piccolissima Morrigan che si vede che nella scatola che qui davanti vedete ora, ferma col microfono nella scatola qui davanti di Alien, il destino del nostro uomo a cura di Ravensburger che ringrazio di cuore per la copia fornita, deve sicuramente aver sentito l'odore di Jones perché è due ore che gira intorno alla scatola Sarà anche il caso di scendere piccolina? Vabbè, intro, va bene, ci fa sacche davanti Intro ovviamente con la gattina, con il Maine Coon appena arrivata e che fa traballare la luce e ve ne parlo a breve dopo la sigla Alien, il destino della nostro uomo, gioco della Ravensburger da poco tradotto in italiano perché è già un po' che gira e tanti fans lo sono comprato e l'hanno provato e l'hanno portato magari anche sul loro canale però soltanto in versione inglese, la versione italiana è uscita da qualche mese ovviamente ne ho chiesto subito una copia a Ravensburger perché, sapete, la mia ambientazione horror spaziale preferita di tutti i tempi è Alien quindi non potevo mancare è un gioco cooperativo, non c'è la variante competitiva anche se con un po' di home rules secondo me si può anche fare molto facilmente perché il regolamento poi su quattro pagine e mezzo si gioca da 1 a 5 giocatori in una versione appunto unicamente cooperativa dove ci dovremo muovere a bordo della nostro uomo muovendosi per i corridoi e le stanze di quella nave da traino che avete visto famosa nel primo film della saga in Alien e dovremo muovereci a bordo evitando lo xenomorfo e soprattutto completando delle missioni un po' come si è vista ad esempio in un altro gioco che io adoro, un Nemesis bisognerà spostarci per la stanza completare degli obiettivi perché ognuno di noi avrà una missione completate queste missioni si girerà la carta della missione finale che un po' mi fa venire in mente anche giochi come Camp Grizzly ad esempio dove dopo aver completato 8 obiettivi si gira una carta finale una delle 6, 8, quante sono e magari potrebbe venirci fuori quella distruggila allo stromo oppure fuggia a bordo della Narcissus quindi quando arriverà la missione finale dovremo fare tutto il possibile per arrivare è un gioco cooperativo, è un gioco dove vi ho detto si cerca di collaborare ed è un gioco dalle meccaniche molto semplici infatti anche il regolamento si spiega facilmente e poi illustrato da molte immagini in 4 pagine e mezzo, 5 al massimo e noi dobbiamo muoverci per le stanze e corridoi evitare lo xenomorfo, evitare l'alien trovare dei resti di attrezzatura quindi delle risorse, ferro e cose del genere con cui dovremo costruire equipaggiamento equipaggiamento che può essere tipo il primo rilevatore di movimento se vi ricordate quello che si muoveva in un raggio io penso di quant'era, 20 metri, 30 metri, pochissimo non è il motion tracker dei marine coloniali oppure il pungiglione elettrico o perchè no anche il lancio a fiamme che poi più avanti aveva Parker e i personaggi che possiamo andare a utilizzare Kane ovviamente è morto dando alla luce l'oxenomorfo ci sono Ripley Dallas, il capitano Parker Brett Lambert e si può giocare con una variante hardcore un po' più difficile dove il nemico da combattere non è unicamente l'oxenomorfo in versione warrior ma è anche Ash il sintetico e l'androide di bordo però nel gioco normale vi basterà usare semplicemente l'oxenomorfo se volete giocarlo un pochino più complicato o impegnativo guardate l'ultima pagina di regolamento in rosso e ci sono le regole per introdurre anche Ash quindi dovremo muoverci per la nave prendere i rottami che i rottami sponano tra virgolette nella nave quando si gira una carta evento ciascun giocatore fa la sua mossa poi tocca l'oxenomorfo e si gira la carta evento la carta evento ti dice quello che succede a bordo dell'annostromo magari un malfunzionamento e altro e dove vanno ad apparire questi rottami che ci servono per craftare noi si va in giro ciascun personaggio ha sulla sua scheda un tot di azioni che possono essere muovere raccogliere oggetti usare abilità speciali muoversi appunto per i corridoi raccogliere roba o passare roba ad altri giocatori e poi ciascuno di loro ha un'abilità speciale quindi magari si vanno a prendere i rottami e con questi rottami si va a costruire un lanciafiamme l'oxenomorfo non si può uccidere e neanche l'equipaggio dell'annostromo infatti questa forza è la parte che mi ha stonato leggermente di più ma ve ne parlo a breve in conclusione ciascun personaggio ha la sua miniatura di riferimento che è veramente bellina ma sono fatte veramente bene perché poi Ravensburger ci ha abituati anche bene quando fa i giochi di miniature sono veramente ben caratterizzate e ciascun personaggio ha la sua carta con il suo numero di azioni la sua descrizione ovviamente che ruolo ha a bordo ad esempio Ripley era il terzo ufficiale Dallas è il comandante dell'annostromo è in più un'abilità speciale tipo Ripley se non erro ha l'abilità speciale di poter far spostare un altro personaggio di una o due caselle quindi praticamente fa muovere il personaggio di un altro e ha quattro azioni quindi voi potete usare queste azioni per fare tutte le azioni che volete cioè anche quattro volte usare l'abilità speciale almeno che non ci sia scritto una volta per turno muovervi di quattro stanze raccogliere quattro oggetti avete quattro azioni quando incontrate lo xenomorfo automaticamente subite un malus al morale quindi nella tabella del morale dovete scalare di quanto ovviamente l'incontro con l'oxanomorfo ha causato di solito se lo incontrate perché voi entrate in una stanza e due al morale morale che si può anche riguadagnare o se no ci sono delle zone inesplorate un po' come i token suono di Nemesis quando voi finite in quella zona con quel token girate il token se è un nulla di fatto o niente se invece è un incontro praticamente perdete e quel tot di morale che dovete automaticamente elevare lo xenomorfo appare in quella zona quando incontrate lo xenomorfo il vostro compagno scappa di tot caselle quindi quando lo incontrate non c'è assolutamente un combattimento ma il vostro personaggio prende e scappa di tot stanze scappando, fuggendo e nascondendosi questo è praticamente a parte la missione finale ve l'ho detto l'obiettivo finale completate gli obiettivi normali sulle regole del gioco si perde quando gli obiettivi del gioco non sono stati ovviamente non si è riuscita a farli tutti quanti quindi arrivare al capitolo all'epilogo finale o anche quando il morale dell'equipaggio arriva a zero in conclusione Alien Il Destino della Nostromo è per me un titolo perfetto per introdurre al gioco da tavolo chiunque prendete un ragazzino che magari gli avete fatto provare in due sere con tre regole veramente HeroQuest il gioco dopo è questo è veramente semplicissimo ha un regolamento alla portata di tutti e poi bene o male chi è che verrà mai a dirvi no a me un film come Alien mi ha fatto schifo non mi è piaciuto magari non è il mio genere però mi ha fatto schifo quindi comunque magari l'ha visto una volta una e mezza volta nella sua vita qui al tavolo ci mettete chiunque ed è un gioco come ci insegna Ravensburger come il gioco dello squala ad esempio veloce e immediato ma che rispecchia appieno veramente l'idea secondo me il background di fondo la storia principale del film di cui ovviamente va a trattare ecco forse punto negativo capisco che è un gioco Ravensburger capisco che è un gioco che magari va a finire anche sulle tavole di ragazzini o comunque persone giovani anche perché sulla scatola riporta età 10 anni o più quindi concetti come autodistruzione morte imbozzolamento ovomorfe cose del genere sarebbero veramente brutte però è un gioco di alien cioè qui non potete morire o meglio potete morire però l'unico modo per morire è che il morale va a zero e missione fallita cioè non è che quando incontrate lo xenomorfo alla nemesis vi uccide l'alieno no qui il vostro personaggio scappa se lo trovate se lo trovate in un'altra stanza riscappa quindi scappate non morite scappate vi nascondete quindi non potranno mai morire nessuno del vostro equipaggio però ovviamente se la morale va a zero o se parte con una carta all'evento di autodistruzione e arriva in un punto di non ritorno che non può essere interrotto l'allostromo esplode ed è partita persa però quando incontrate l'oxenomorfo non si può morire e questo è un po' mappesato vi dico la verità in un gioco di alien in conclusione un bel titolo alla portata di tutti ve lo consiglio di brutto anche per il costo le miniature il contenuto ragazzi spettacolo volete un gioco di alien eccolo veramente 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 bello semplice regolamento velocissimo alla portata di tutti io ringrazio Ravesburger per la copia fornita se la volete ordinare come sempre primo link in descrizione in sovimpressione dalla giocolibreria Semola nostro negozio sponsor non soltanto al miglior prezzo sul mercato perché lo trovate tutti i giochi li trovate migliori prezzi sul mercato ma se andate sul sito alien il destino della nostro ombo bollino rosso finito oppure proprio alien scrivete e non lo trovate nel catalogo mandate una mail al supporto della giocolibreria Semola a Corrado al proprietario del negozio e fate presente che arrivate dal mio canale dal canale di Coridan ditegli il gioco è finito oppure il gioco non ce l'hai sul sito ma si può ordinare comunque lui se è un gioco reperibile farà il possibile per trovarvelo nel minor tempo possibile al minor prezzo possibile e usate sempre il mio codice discount Coridan 7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiore ai 79 euro spese postali gratuite in 48 ore in tutta Europa quindi se lo ordinate magari state in Francia in 24 ore va arriva oppure sulle isole uguale quale negozio trovate che fa un servizio del genere che non soltanto è finito aspettiamo che arrivi il restock no proprio non ce l'ha magari in catalogo un titolo che non ha perché non l'ha preso ve lo ordina anche se è fuori catalogo quindi il servizio dalla giocolibreria Semola è eccellente e usate il mio codice così vi prendete anche un bello sconto che non fa mai male io ringrazio Ravensburger e ragazzi assolutamente consigliatissimo fidatevi Alien portata al tavolo divertentissimo contenuto di miniature interessante ciao alla prossima se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook al canale mio di Live Twitch alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto e social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì ciao alla prossima